Siamo alle solite, eh? Continuano ad arrivare lettere di ammiratori soltanto per Ranma ragazza, da Hokkaido, da Kyoto. Se continua così finirò per convincermi di esserlo davvero. Ma quando capirete che io sono un ragazzo? Ragazzo! Lo so che ora come ora potrebbe non sembrare, ma vi posso assicurare che io... Ehi, un momento! Ma si può sapere dove state guardando mentre parlo? Siete davvero dei pervertiti? E per poco non mi facevate dimenticare la cosa più importante. Non azzardatevi neppure a copiare questa videocassetta o dovrete fare i conti con me, maschio. Insomma, col vero ed unico Ranma Sautome. Capito?